L'assalto di Andan Ora, l'assalto di Andan L'esercito Qin ha raggiunto la capitale Zhao di Andan L'esercito di Andan L'esercito di Andan Attacca da entrambi i lati e divide il fuoco nevico Ho capito, ho capito Unisci entrambe le armate in un unico esercito per l'attacco finale Assorbi gli attacchi delle armi da lancio con unità più forti Prima di farli contraattaccare le turpe più deboli Usa i plutei per proteggere gli arcieri e i balestrieri Preserva la torre d'assalto D'assedio il più lungo possibile È un elemento prezioso Cerca di preservare più guardie imperiali Che puoi per l'attacco finale Perché il nemico farà resistenza Andiamo a vedere Che tipo di battaglia è questa ragazzi L'assalto di Andan Una città multistrato Abbiamo due Un messaggio da Jin Shehuang Wow grazie Ok Abbiamo Una grande mappa In cui dovremo attaccare da entrambi i lati Bell'assalto questo Allora abbiamo Spada C Abbiamo 20 Vediamo il primo piano delle truppe Non c'è proprio un primo piano delle truppe Però graficamente non è un cranké Guardate qui Questo è il Gonfaloniere Che praticamente Ha la stessa unità identica Però Questo Dà un vantaggio alle truppe Nelle vicinanze Invece abbiamo Le unità quelle più scarse Cioè Gli arcieri 33 Un altro con baloniere E poi Una quarantina di guerrieri Con Asha Auxiliario Ma che domanda Vedi Samasa Diggielo Diggielo Che Sei un ex soldato Te Non penso che lo cerca proprio Dalle Oh E Cioè Iniziamo E Sei calmo Allora Beh Sei pur sempre stato un soldato Dell'esercito italiano Quindi Ci sta Allora Sono pochi gli arcieri sulle mura Quindi direi Di dividere Questo gruppo di arcieri Balestieri Sono 16 Facciamo 8 Tutto qui Aspetta E che micia Scherzavo Ripuliamo queste mura Cioè Addirittura Mi prendo dall'altra parte Cazzo Da qua Questa era La torre d'asserio Che serviva prima È utile Per prendere le mura Ma me lo devo portare avanti Ragazzi Vorresti essere un soldato Eh ma mai Mi sa che è ben bene Il vecchio 8 Per fare il soldato Allora Al solito Tutti i sarcieri Fate il culo Che posso proteggere? Chi si è benvenuto? Sì Giangguan Hai un'attività? Minchia ragazzi Questa è difficile Wow Sono attaccato Da un sacco di lati Facciamoci Loro qua Non credo che li beccano Guarda Sono usciti Sono usciti Guardali Guardali Ok Li prendono Ok Meglio Dai Atterra sta torre Forza È rotta il cazzo Anzi questa Ci arrivate a questa Minchia Non ci arriva Ma perché Sono partiti Di arcieri Guarda Cazzo È forte Questo Ok Ce lo so Pappati Veloci Un'altra botte Ok Andate qui Ammazzateli tutti Mi sto muovendo Prima da questo lato Ragazzi Poi Mi muoverò Dall'altra parte Tanto ormai Qua le mura Sono sicuro Ma qua c'è la cavalleria Pure Ok Questo lato Pure Nostro L'assalto finale Del castello Deve essere fatto Da entrambi i lati Diceva Con tutto L'esercito Io poi Sta la cavalleria Che mi Mi spappola La torre D'assedio Ma relativamente Può essere Euta E sta torre Fin dei condi Che la devo Sprecare qua La torre D'assedio Olè 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 Io mi aveva chiesto L'età L'ho risposto In privato Poi Ah ok Capito Non si chiede mai L'età Una donna E non lo so Che fine ha fatto Matteo Ah ok Lo prendo Come un No E' un pacifista Ben bene Eh Matteo E' sparito E' sparito Vuol dire che ha da fare Ragazzi E' giovane Lui Magari sta facendo Moderatore a qualcun altro Che gli ha promesso dei soldi Visto che è ingordo Di soldi Cadere la fronte Qui c'è la fronte Lui 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 Ancora quello è andato. Non so ragazzi se la strategia è giusta, però ci stiamo provando in questa maniera. Se lo sono risucchiati in un vortice spazio-temporale ragazzi. Cioè la da punta è praticamente sotto la porta ragazzi. Ok, adesso attaccheranno eh. Ma perché? Ok, è arrivato un contingente di supporto di guardie imperiali. Questi sono quelli forti. Che sto muovendo le catapult? Andiamo a dire se gli ammazzo la cavalleria da qui. Vado! Forza, beccateli, su! Ma dai, non li prendono! Che cazzo! Ma che sono finti, raga! Raga, ma veramente? Cioè io avrei esterminato la cavalleria in un batter d'occhio. Va bene, va bene. Molto divertente questa parte del gioco. Ok. E allora, balestrieri. Guardi, guardi. Guardi, guardi. Guardi, guardi, guardi. Guardi, guardi. Sono ologrammi. Ma lo immagino pure io che sono gli ologrammi. Uno solo si è mosso di loro. Qua ho demolito la loro caserma. Quelli ci stanno facendo ammazzare Beh ragazzi se provate magari a sfondare voi a mano Io questa Me la devo portare avanti Ci devo provare frontalmente Ragazzi ammazzarla con sta cavalleria Dai che pian piano la buttano giù Questa non si deve utilizzare per adesso Dai Ho perso tutti gli arcieri però Ok la fate qualcosa di buono Così tanto per A meno uno A meno uno lo ammazzate Ah Da sotto no Quindi funziona Era l'altura ragazzi Che da fregare Come tutti i problemi di questo gioco L'altura Perché è un piacere lo fate Tipo ammazzarne uno Così bravi A ripulire le torri Così mi piacete così Quanto vi impegnate Ah da qui non li prendono più Ah che botta di punta Qualche metro in avanti Che non li prendono ragazzi Non li ammazzano No cazzo Va bene va bene va bene va bene Non sta andando male Forse Questi non mi prenderanno più Fuori da gettata Fortuna che la pietra ragazzi È infinita Delle catapulte Salvo Che è veramente difficile Superare in tranquillità Sta parte Polipo difettoso No se l'hai fatto male Con due teste Ok Adesso almeno abbiamo i balesteri Che possono Servire la causa Magari se provi a sfondare Non vi chiedo tantissimo Non vi chiedo tantissimo Non vi chiedo tantissimo Ho salvato neanche un balestriere Ma porca di quella Quindi quelli sulle mura Non li posso ammazzare Ma che bella cosa Vabbè Allora a questo punto Avanziamo Giustamente Dureranno pochissime Le catapulte Non sono andate Le catapulte Ma sono giganti Quelli che la spingono Cioè due uomini Spingono Una torre d'assedio Io e Samasa Ne sappiamo qualcosa Delle torre d'assedio Che per spingerci Vogliono 20 self Almeno Oh yeah dai raga Forza Sarà difficile Però Però Dai No vabbè raga ma è impossibile Questa Come cazzarola sfogli qua Devo andare direttamente da lui raga Che minchia si addormenta Ma dai Aspettiamo cerchiamo a borbardare dal nemico Ciao Eeeh Festa Prima che la distruggano Comunque Dai ma quello è sceso di nuovo Ma quando sei idioti oh Quando sei idioti vabbè l'abbiamo ammazzato Tanto quelli stanno raggirando Raga ma non salgono Raga non salgono Dovete combattere Cazzo Lo guardano Cioè raga ma vinda proprio veramente Ma veramente Ma veramente male ragazzi Per vincere una battaglia del genere Per vincere Per vincere Per vincere Per vincere Per vincere Ere